Oggi parliamo delle votazioni per i nuovi supercharger, le proposte. Poi torniamo a parlare dei sedili sportivi per alcune versioni, abbiamo novità, e un miglioramento molto interessante del navigatore. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Come ormai di consuetudine, di tre mesi in tre mesi, si è conclusa la votazione per le proposte di nuovi supercharger e se ne è aperta un'altra. Quindi vi consiglio di andare sul sito Tesla, intanto vi lascio direttamente il link nelle schede, ma tra l'altro Tesla ha rimodulato leggermente il sito e ora è molto più facile arrivare alle votazioni, quindi voi aprite il sito Tesla, andate nella voce ricarica e troverete proprio la voce vota supercharger. Quando voi cliccate dovete fare il login ovviamente con il vostro account e avrete cinque voti da spendere per andare a scegliere, proporre, un nuovo supercharger. Oltre a questo potete proprio proporre anche un supercharger che non è presente nella lista e questo verrà preso in considerazione per la votazione dei prossimi tre mesi. Quindi io l'ho fatto e vi consiglio di farlo. Proprio qualche giorno fa abbiamo parlato di una immagine estrapolata dal codice dell'app che sembra distinguere due tipologie ben precise di sedili della Model 3 Highland, quindi sedili per le versioni a trazione posteriore e long range, ma anche una versione diversa, con sedili più sportivi, per la versione performance di cui a oggi ancora non si sa niente. Sono uscite oggi delle foto rubate, prendiamole sempre nel campo dei rumors, quindi niente di ufficiale, perché sembra che anche Model S Plaid potrebbe avere dei sedili dedicati un po' più sportivi. Ora, se fosse veramente così, potrebbe essere una mossa molto intelligente da parte di Tesla, ma io spero che almeno per quanto riguarda Model S ci sia la scelta di rimanere con i sedili normali, tra virgolette più confortevoli e poi quelli un po' più sportivi, quelli definiti a catino, un po' più rigidi e un po' più adatti all'uso sportivo. Perché questo? Perché ovviamente rispetto magari a Model 3 Performance, comunque anche Model S Plaid rimane una berlina da viaggio di un certo tipo, con una certa clientela e quindi magari non tutti i clienti vogliono dei sedili un po' più sportivi. Comunque staremo a vedere che cosa salterà fuori. Navigatore Tesla. Beh, non possiamo dire che sia proprio uno dei più evoluti sul mercato, anzi devo dire che è proprio basilare. Tra l'altro per chi magari si fosse avvicinato al mondo Tesla da poco tempo, la possibilità di inserire i waypoint, quindi di inserire delle tappe intermedie, è arrivata non poco tempo fa, su pressanti richieste dei clienti. Quindi diciamo che è estremamente basilare e lo è anche per quanto riguarda l'indicazione delle svolte. A volte non è proprio chiarissimo, soprattutto su incroci particolarmente complessi. Beh, sembra che qualcosa si stia muovendo un po' verso una grafica migliore, diciamo in stile Tom Tomo Garmin, così per citarne un paio, dove quando ci si avvicina a una svolta viene proprio visualizzato il tipo di incrocio, il tipo di svolta e c'è proprio una freccia che ci indica dove andare. Tesla lo sta inserendo per ora nel mercato coreano, che sia magari un test per poi espanderlo a tutto il resto dei mercati. E sarebbe veramente una gran cosa. Passiamo ora ai saluti e ringraziamenti. Salvatore, grazie mille per il tuo supporto. Ci siamo scambiati qualche messaggio e mi ha scritto un piccolo pensiero per una grande disponibilità. Grazie, no, grazie a te per il supporto. So che hanno cominciato a consegnare le nuove Model 3, beh, aspetto le foto. Mi raccomando, ditemi come vanno. E poi spero di provarla al più presto, sia nella prova consumi che in generale una prova dell'auto. Quindi se magari siete in zona e la ritirate, fatemi sapere. E poi, avete presente la maglietta lampi di Tesla? Trovate sempre in descrizione il link, ve lo lascio anche qua sopra per lo shop. Rimanete sintonizzati perché sta per arrivare qualche sorpresa. Ma non vi svelo altro. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!